Ma bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video Come avrete sicuramente visto dall'inquadratura c'è una new entry misteriosa nello studio E si tratta proprio della ruota della fortuna Prima di continuare col video vi invito già da subito a lasciare un bel pollicione in su Iscrivervi al canale, attivate la campanellina Inoltre vi ricordo che tutti i giorni mi potete trovare in live sul mio canale Viola dalle ore 17 Link in descrizione Cosa andremo a fare oggi con la ruota della fortuna? Intanto prendiamo lo strumentopolo misterioso Come vedete in ogni spicchio colorato della ruota ho inserito il nome di armi, utility e cure di fortuna Perché la ruota misteriosa oggi andrà a scegliere il nostro inventario che andremo ad utilizzare appunto in gioco Quindi essendo che l'inventario è composto da 5 slot andrò a girare la ruota 5 volte E quello che uscirà mi toccherà utilizzare Quello che ho scritto all'interno degli spicchi è Fucile d'assalto, fucile a pompa, smg quindi la mitraglietta, la pistola, lo sniper, l'rpg quindi il lancia razzi La fiocina, i muri rinforzati che nella modalità no build sono fortissimi Le granate che possono essere sia di impulso che esplosive a seconda di quello che preferisco utilizzare io Il jetpack che si trova sul dirigibile Le cure vita quindi le cure di vita verde Le cure shield quindi le cure dello scudo Il rift che è un'utilità molto molto utile E il jolly Il jolly cos'è? In pratica se mi dovesse uscire l'opzione jolly Che spero potrò scegliere io cosa portarmi in quel determinato slot Ora senza perderci troppo in chiacchiere Andiamo direttamente a girare la ruota Preghiamo Primo giro ragazzi Ti prego qualcosa che faccia danno ai nemici Non darmi solo cure No l'ho appena detto Cure vita ragazzi Però le cure sono utili da avere nell'inventario Quindi va bene Primo slot cure vita Andiamo avanti Secondo giro Ti prego dammi qualcos'altro L'SMG Buonissimo L'SMG è Mamma mia pazzurda Quindi va benissimo SMG Cure vita E attenzione terzo slot L'RPG no L'RPG è fortissimo Ma io non lo so usare Cioè me lo lancio sotto i piedi Comunque cure vita SMG E RPG quindi lancia razzi Dammi qualcosa di diverso Il pompa Va benissimo Va benissimo Va benissimo Sta andando alla grande ragazzi Cure vita SMG RPG Pompa Manca l'ultimo slot A sto punto le cure shield A sto punto le cure shield Ti prego Cure scudo Veramente Ma me l'ha dato veramente Non capivo Non riuscivo a leggere Guardando lo schermo Cure shield Ragazzi inventario perfetto Cioè non abbiamo un'arma a distanza Però se pusciamo Ok Quindi andiamo subito su Fortnite Ok ragazzi Ci siamo Siamo su Fortnite Abbiamo subito un game In zero costruzioni Modalità ovviamente Singolo Sono pronta Perché in realtà È molto bello L'inventario che ci è uscito Quindi quello che posso prendere È qualsiasi tipo di pompa Perfetto Qualsiasi tipo di SMG Posso prendere un lancia razzi Sperando di trovarlo Se no slot vuoto Mi devo portare dietro niente Poi cure vita E cure shield Quindi in realtà Cioè va benissimo Ok Sono pronta Sono prontissima Non ho paura di nessuno Quindi mi butterò a stretto Sonno lento Quindi prima città Una delle primi city Andiamo Buttiamoci E speriamo di trovare subito Una mitraglietta Un pompa e magari non 200 miliardi Di assalto E pistole Che non posso utilizzare Barra cecchini Vedo un deltaplano dietro di me In realtà più deltaplani Ci sono 5 player Sì Mi sa 5 player Quindi bello Bello contest comunque Ok colpi piccoli Questa è una mitraglietta È una mitraglietta Va benissimo Va benissimo Ok Già possiamo sparare Quindi top così Top number one Cosa ci ha dato il cecchino Le C4 Buttiamo via tutto Che non possiamo utilizzarli Vediamo cosa ci dà qua dentro Ok Ok il pompa e le cure Ovviamente le splash Possiamo utilizzarle Perché la ruota ci ha dato Sia le cure a shield Che le cure a vita Vedo piedi Vedo piedi Significa solo una cosa C'è un player Che bel miss Georgia Ma sei fortissimo C'è Ok Ok Piuttosto semplice Qua la kill Va benissimo Prima kill portata a casa Intanto sto pompa Lo lasciamo Perché un pompa ce l'abbiamo Altra mitraglietta Attenzione Prendo la La stinger Si chiama così Che è quella Diciamo vecchia Per il semplice fatto Che non abbiamo Non possiamo utilizzare Un assalto Di conseguenza Di conseguenza Qua c'è un player E dobbiamo ucciderlo Oh Cattivissimo Questo L'abbiamo ucciso Ma era veramente Cattivo Stavo dicendo Usiamo questa mitraglietta qua Perché è più precisa Della nuova Di conseguenza Dalla distanza Possiamo fare qualcosa Purtroppo non possiamo Prendere impulso E nient'altro Questi due Sì ovviamente Uno Sì Ma questo player qua Dove vai Sì Perché Se è andato via Vieni qua Vieni qua Voglio la tua kill No 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 scappare E niente E niente No vabbè Il bar ti viola E l'impulso Oh che dolore Lasciare tutto Col ben di dio lì Vieni qua Va bene Inseguimento L'hai voluto tu C'è Ma veramente Vuole inseguimento Stradale zi Ok Oh Ci ha portato l'RPG Lo zio qua Top Intanto Togliamo le bende Perché una cura vita E una cura shield Al massimo Possiamo portare Nel nostro inventario Siamo pure in safe Potrei effettivamente Andare a dare un'occhiata Nell'altra parte Della città E vedere se c'è qualche Non lo so Qualche bastardello Da prendere Pam Un destro nei denti Lì sopra c'è un player Però mi sa che sta fightando Perché se vedo gli spari Quindi E li sento Potremmo anche provare a pushare E come va va Ci ha sentiti? Sono una cretina Io ve l'ho detto Che non lo so usare Io l'ho detto Che non so usare Stradale zi Però male che l'abbiamo ucciso Ragazzi Facciamoci Subito Il barilone Io l'ho detto Me lo sono lanciata Sopra i piedi Siamo ancora vivi Ovviamente La kill l'abbiamo fatta Ci è andata bene Ma questo È morto Ma quindi quanta gente c'è Scusate Qualcuno l'ha ucciso Ok ok C'è uno là sopra Intanto Faccio un change Cura vita Con cura vita E mi fullo Quasi quasi mi porto Le cosciotte Anzi No c'è il tamburo Giorno non mi sarei Sono una grande Sono una grande Sono una grande Subito Cusciotte al volo Dimmi che non c'è nessuno Scildino Mamma mia Mamma mia Meno male che non ho missato Ragazzi Meno male che non ho missato nulla Ok Possiamo prendere questo Ok Ok ci siamo Devo lasciare questi scildini Però perché serve una cura vita La ruota ha stabilito così Quindi cura vita E basta Perfetto 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 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Siamo vivi ragazzi Siamo vivi Abbiamo solo un colpo di lanciarazzi Cioè lanciarazzi Cioè praticamente inutile Diventerà inutilissimo Quindi Oh ci ha dato i colpi Ok abbiamo di nuovo tre colpi Vabbè Ma il gioco mi ama oggi Oh ma non c'è nessuno Ma com'è possibile Cioè abbiamo praticamente fatto Only kill start Qua stanno morendo tutti Io non vedo nessuno C'è una macchina però C'è una macchina Ma non l'ho agganciato Mi sa come si aggancia Così Ok Non l'ho mai fatta Sta cosa Potremmo provare A schiacciarlo Però se ci spara Un problema C'ha il barret Mi sa Dove cazzo è Non lo vedo Ok Non lo vedo Non lo vedo Non ti vedo zi Meravere Meravere Mi vede io no Cavolo cavolo Problema Preso 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 Presi tutte e due Ragazzi Ci siamo Ci siamo Ci siamo Scegliamoci subito Dobbiamo instant curarci Il pompa Questo qua blu Lo possiamo Assolutamente Prendere La mitraglietta Lui non l'aveva Ok Corriamo dall'altro Aveva la mitraglietta Oro Però è quell'altra Non so cosa fare Ragazzi Questa qua è fortissima Però dalla distanza Potrebbe essere un problema Però è comunque oro Ragazzi C'è non la voglio mollare Sto sprecando un po' di ranzi No 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 Cacca Vedete che c'era uno Nel cespuglio Vedete che c'era uno Nel cespuglio Ed è qua da noi Ok L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto No Caccapupu Caccapupu Ho mollato la mitraglietta Per sbaglio Curati 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 Ho mollato la mitraglietta Per sbaglio Ok Prendiamo la roba Dove sei? Sei dentro il cespuglio Sarebbe un peccato Se ci lanciassi in ranzo io Vero zi? Devo busciarti Ok 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 C'è l'altro C'è l'altro Cavolo 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 No 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 Ok 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 Questo è per No Siamo morti Contro l'ultimo Ragazzi No raga Era vinta Questo qua è stato camperato Tutto il tempo Ho aspettato che io fossi One shot contro gli altri C'è ucciso tutti io Non ci credo Però Però L'abbiamo giocata molto bene È stato un bellissimo game Comunque 9 kill L'abbiamo fatte Peccato per l'ultimo Ragazzi Veramente peccato per l'ultimo Ragazzi Io direi che La challenge è andata comunque Da dio La ruota della fortuna È stata molto Molto a nostro favore Nel senso ci ha dato una mano enorme Ci ha fatto uscire Un sacco di cose utili Io Sinceramente speravo in un assalto Più che un RPG L'RPG è stato utile Contro il penultimo player Ma purtroppo L'ultimo player Ha approfittato Della nostra poca vita E ci ha distrutti Comunque io ritengo La challenge superata Nel senso Ho giocato benissimo Abbiamo fatto le nostre 9 kill Peccato Potevamo fare una win Con 10 kill Sarebbe stato top Però niente L'ultimo è stato più bravo Ragazzi Io direi che siamo ormai Giunti al termine Quindi come al solito Vi invito a commentare A spolliciare come dei pazzi Perché noi ci vediamo Sabato in un prossimo video Bella ragazzi A spolliciare come dei pazzi A spolliciare come dei pazzi Grazie.